Questa è la nuota formula per calcolare l'area di un trapezio. Vedremo come ricavare la formula inversa per calcolare l'altezza, H, e la formula inversa per calcolare la base maggiore, B, il tutto senza arrampicarsi sugli specchi. Troviamo H. L'obiettivo è isolare H e poter scrivere H uguale a qualcosa. Moltiplichiamo per due primo e secondo membro della formula. Qui abbiamo una semplificazione, rimane questa uguaglianza, e dividiamo a sinistra e a destra dell'uguale per A più B. Altra semplificazione, meraviglia delle meraviglie, ecco isolata la H. Questa è la formula per trovare l'altezza. Ora pensiamo a B. L'obiettivo è isolare B e scrivere B uguale a qualcosa. Moltiplichiamo per due primo e secondo membro della formula. Qui abbiamo una semplificazione, rimane questa uguaglianza. Dividiamo a sinistra e a destra dell'uguale per H. Altra semplificazione, rimane l'uguaglianza scritta così. Aggiungiamo meno A sia a sinistra sia a destra dell'uguale. A e meno A ci salutano. Meraviglia delle meraviglie, ecco isolata anche la B. E questa è la formula per trovare la base maggiore. Per altri esempi svolti, guarda il video correlato a questo short.